Che pensi? Tante cose belle Dimmi che adesso vuoi fare un amore solo con me Sento una cosa nel stomaco Cosa? Sto iniziando a provare qualcosa di bello che mi fa paura Io sono sicura di quanto sto bene e quando sto con te E sono sicura anche che tu stai bene quando sei con me Io sto bene Ok, in senso di dubbio Però ovviamente quello che tu provi qui con lei non lo sai C'è proprio bisogno di sentirti, di stringerti, di sentirti mio colto E quando sto così sto ben, sto finissimo Ho voglia di uscire di qua veramente con qualcosa di concreto, di bello E per quello che voglio conoscere tutto bene Perché voglio uscire di qua per incominciare una storia Non per conoscere senti fuori Quello che vorrei è veramente un rapporto solido E soprattutto adesso magari la parola convivenza mette un po' di paura Però mi rendo conto che la mia età è quello che sostanzialmente vorrei E mi piacerebbe costruire qualcosa di vero subito E quindi creare già una famiglia, tra virgolette Sapere che quando si arrivi a casa comunque c'è qualcuno con cui parlare Con cui discutere della giornata, di quello che è successo Quello secondo me è essere una famiglia Grazie a tutti